Siamo molto contenti e orgogliosi di rappresentare in questo momento la nostra azienda Dompe, a fianco della farmacia, a fianco di Federpharma, in un progetto che ci ha visti impegnati ormai da un anno in un percorso di costruzione, di conoscenza, di nuovo, in un momento sicuramente particolare, in un momento di sintesi, in un momento in cui il contesto sociale e tecnologico invita a ripensare alcune logiche e apre sicuramente nuove opportunità. In questo senso la nostra azienda, la Dompe, un'azienda attenta all'innovazione, ha ritenuto necessario aprire un tavolo di confronto con il mondo della farmacia, consapevoli che in questo momento sicuramente la disruption offerta dalle nuove tecnologie apre nuove opportunità, consapevoli che digital è lo strumento, ma quello che è più importante è la definizione della scelta strategica e del ruolo che l'industria da una parte e la farmacia dall'altra possono ricoprire all'interno di un contesto che è il nostro, il contesto della salute, in cui sicuramente affronteremo industria da una parte e farmacia dall'altra sicuramente delle dinamiche differenti rispetto a quelle che stiamo vivendo oggi. La tecnologia ci offre un'opportunità, drive the change, guidare il cambiamento è il titolo del progetto che abbiamo deciso di sponsorizzare con la volontà e anche la consapevolezza che in questo momento è opportuno interrogarsi, è opportuno definire una nuova strategia, una nuova strada e consapevoli che sicuramente la collaborazione reciproca tra industria e farmacia può giocare un ruolo chiave all'interno del mercato e del settore della salute.